Sono Serena Carra, professore di biologia molecolare presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Qui dal 2011, grazie al sossegno di ARISA ed insieme all'impegno di giovani collaboratori, stiamo cercando di comprendere i meccanismi che portano allo sviluppo della sclerosi laterale miotrofica. In particolar modo stiamo studiando come complessi di RNA proteine, che sono altamente dinamici, vengono convertiti in aggregati potenzialmente tossici e che giocherebbero un ruolo importante nella progressione della patologia. In questi anni abbiamo identificato bersagli molecolari la cui modulazione potrebbe rallentare la progressione della patologia. La ricerca per raggiungere grandi obiettivi ha bisogno di perseveranza e passione. Quella ce la mettiamo noi tutti i giorni con il nostro impegno quotidiano. Ha però bisogno anche di continuità e per quella abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dona il tuo 5x1000 ad ARISLA.